Ciao ragazzi, anche oggi il vostro ciruzzo vi farà compagnia per due minuti. La parolina che oggi tratteremo forse è una di quelle più usate nell'imprecazione napoletana. Mi raccomando amici, quando dovete usare questa parola, usatela limitatamente e con le dovute precauzioni. La parola sfaccima o sfaccima è pronunziata a seconda del luogo di provenienza, ovvero dal quartiere di provenienza napoletano. L'origine deriva dall'italiano sfacciato, ovvero uomo con intravedenza. L'unica cosa che bisogna però fare attenzione a come usiamo questo termine, perché a seconda di come appunto lo usiamo può avere un significato diverso. Per esempio, La parola figli sfaccima indica una persona burda, in particolar modo è come se noi dicessimo figli indrocchi. Se invece diciamo Si può dire anche Che in italiano è un'esortazione del tipo Ma che diamine? Se anche oggi questo video vi è stato d'aiuto sulla parola Mi raccomando di non dimenticare di seguirmi sul mio canale YouTube Ciro Buono 1984 E sulla pagina Facebook Ciro Buono Page, dove di solito mantengo aggiornati tutti i miei amici e tutti i fan sui miei lavori cinematografici televisivi. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo la prossima volta e ciao a tutti!